Nei giorni scorsi è stato aperto a Pordenone un nuovo percorso ciclopedonale. L'intervento, realizzato in via Martiri Concordiesi, ha connesso il parco del seminario alla rete di piste ciclabili già esistente e ha reso più sicuro il collegamento tra l'importante polmone verde ed il centro città. Si tratta di una pista in sede propria, fisicamente separata dalla carreggiata, da un'aiuola piantumata, lunga oltre un centinaio di metri. Nell'ambito dell'intervento, realizzato con un investimento di 450 mila euro, è stata anche posizionata, lungo l'importante e trafficata arteria stradale, un'isola spartitraffico che consente di rallentare la velocità dei veicoli ed agevola l'attraversamento degli utenti non motorizzati. L'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. Con la realizzazione di questo nuovo percorso, che si raccorda a quello esistente sull'altro lato della carreggiata, abbiamo voluto rendere il parco del seminario più accessibile, più sicurezza per chi vuole raggiungere questo straordinario polmone verde a piedi o in bicicletta, ma anche grazie ai posti auto che sono stati ricavati in prossimità dell'ingresso, più facilità di parcheggio per chi vi arriva in automobile. Un intervento importante che segue quello realizzato all'interno del parco dei laghetti di Rorai e che dimostra la volontà dell'amministrazione comunale di implementare la rete ciclabile e di valorizzare le aree verdi cittadine. Un intervento che però ha anche un valore aggiunto particolare perché consente di riavvicinare la città al suo fiume, una risorsa straordinaria che dobbiamo salvaguardare ma che dobbiamo anche riportare alla luce. La nuova pista ciclopedonale consente anche di riscoprire l'ambito fluviale. La demolizione di un vecchio muro di recinzione ha permesso infatti di svelare scorci inediti e davvero suggestivi sul fiume Noncello.